Il sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Mari Caponziani, ha aperto un'inchiesta per accertare l'origine del violento incendio che ha divampato lunedì sera intorno alle 21 a Chietiscalo, distruggendo lo stabilimento della Magma, azienda che tratta rifiuti industriali, recuperando materiale plastico e cellulosa. In questa fase si indaga per incendio colposo a carico di ignoti. Le attività di indagine sono state delegate alla squadra mobile di Chieti. Non si fanno ancora ipotesi sulle cause dell'origine del rogo e almeno in questa fase sembra da escludere l'origine dolosa. Nel momento in cui sono divampate le fiamme un'ora prima della chiusura dell'attività, nei capannoni c'erano due addetti che hanno cercato di spegnerle con estintori e hanno allertato i soccorsi. Per tutta la notte la giornata odierna sul posto hanno operato diverse squadre e mezzi dei vigili del fuoco di Chieti, il cui intervento ha scongiurato che il fuoco si propagasse alle aziende vicine. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e dall'area si sprigiona ancora del fumo anche se in quantità molto ridotta. Si tratta degli ultimi focolai che nulla hanno a che vedere con l'alta colonna di fumo nera visibile anche in mattinata a decine di chilometri di distanza. La buona notizia è che la qualità dell'area all'interno del policlinico di Chieti è quella di sempre e pertanto non si rende necessaria allo stato attuale alcuna misura particolare. L'attività nelle unità operative nel blocco cooperatorio prosegue regolarmente, rende noto la ASL di Lanciano Vasto Chieti. Intanto il sindaco Diego Ferrara continua ad aggiornare i propri cittadini su Facebook. Con un'ordinanza aveva chiuso nella giornata del primo ottobre le scuole di ogni ordine grado, compresi i nidi di infanzia anche privati e i centri aggregativi, oltre all'università d'annunzio. Chiuse anche le aziende in un raggio di due chilometri, vietata la raccolta e il consumo di prodotti ortofrutticoli e foraggio per animali. E poi la raccomandazione da parte delle autorità di chiudere le finestre e uscire solo in caso di necessità con le mascherine in attesa delle analisi ARTA. Queste le dichiarazioni del direttore dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente dopo i primi rilievi delle centraline di controllo installate da mesi a Chieti Scalo. L'Arta Abruzzo è intervenuta immediatamente nel corso degli incendi che hanno riguardato sia scerne di Pineto che Chieti. Le sostanze rinvenute in atmosfera sono i classici prodotti delle combustioni in assenza di ossigeno, quindi benzeni nelle loro varie declinazioni, xilene, tolene e benzene stesso. L'opera di monitoraggio prosegue anche con terreni e acque superficiali e nelle prossime ore avremo un quadro più completo della situazione.